Io per esempio quando voglio farmi la tinta dei capelli, vado ai barrucchiere, io non do dei soldi a sistema, io prendo un pomodoro, me lo sbatto sulla testa e diventa il mio shampoo. Così divento red, red, grande, di tutti i capelli rossi. Vi posso raccontare un episodio? Nel 95 ero al culmine di Canal 5, sì, mi chiama Berlusconi, nel suo studio ad Alcore e mi dice red, se vuoi continuare a fare i programmi devi cambiare il colore di capelli, non puoi rimanere rosso perché sennò sembra il comodista, gli ho detto no, Berlusconi, io sono così, non mi puoi dire di fare quello che vuoi dire, io rimango così o se no me ne vado, mi ha detto vattene. Io me ne sono andato e questa è la scelta che ho pagato in tasca mia, perché infatti ci ho sempre rimesso per le mie idee, infatti se io in banca sono sempre in rosso, per me è un motivo di coerenza. abona, abone, 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 abone.